Buonasera, io malgrado mi ritrovo oggi nel giornalino, avrei voluto aver fatto almeno di essere non nel giornalino ma di fare a quella di spiego. Praticamente una domenica esasperata, dietro casa mia si era creato almeno una cinquantina di metri di rifiuti e mia moglie non poteva neanche aprire le imposte, se non che mi siedo e comincio a scrivere una bella lettera al commissario. Ho avuto la felice idea di pubblicarla su Facebook, questo strumento meraviglioso e faccio contendere a questi ragazzi che subito l'hanno fatta anche propria e domani mattina quando mia moglie è andata a depositare, a protocollare questa lettera ha trovato anche altre persone che hanno perso spunto da quella lettera e l'hanno anche loro protocollata. E' successo un po' il casino, diciamo, però alla fine qualche risultato si è avuto. Dico, è stata una bella esperienza, spero che questo movimento vada avanti e guardi sempre dritto, senza tergiversare. So se conosco questi ragazzi che ovviamente ci tendono e voglio fare semplicemente i miei auguri di buon giorno. Grazie a tutti.